Giornata numero due qui, Sanremo! Sono solo due e oggi vi faccio vedere che cosa combiniamo qui a Sanremo! Ovviamente la mia giornata inizia con un po' di sport in riva al mare insieme a Darwin. Secondo step della giornata è la scelta dell'outfit, moguli, dei chiari e parado con questi fix. Per i make-up mi sono affidata a Mia Cosmetics e qui c'è tutta la selezione del make-up che dovrò iniziare oggi. E così andiamo via a questa giornata di interviste, andiamo! Tra l'altro io ancora non vi ho fatto vedere le nostre postazioni, quindi adesso vi faccio anche fare un tour della nostra postazione appunto. Questo è l'ingresso del nostro track dove si trova la regia. E questo è il nostro studio di RTIL125. No, puoi passare tranquilla! Posso! Dove è a Mia Minonda dove ospitiamo tutti gli artisti che passano da noi? Ma chi stiamo aspettando adesso? Angela Mango! Veramente! Angela Mango verrà qui! E così la nostra giornata inizia proprio con lei, Angelina Mango, per poi proseguire con Alessandra Amoroso e un bel lento con Giuliano Zangiorgi dei Migramaro. Poi ci ha raggiunto Anna Luisa, splendida come sempre. E Tedua è passata sorpresa a suonare davanti ai fan impazziti davanti al nostro track. Poi ho ricevuto un regalo da Fiorella Mannoia. E infine abbiamo cantato in onda Mamma Maria con i ricchi e poveri. E noi ci vediamo domani per il terzo giorno di Sanremo.